Musica Abbiamo creato un brand con un nome di Eresidio Lunga Vita, una produzione particolare per quanto riguarda il cartano. Abbiamo portato avanti tutta una linea particolare per quanto riguarda la linea food, quindi olio, fiori, pasta con la farina di cartano e senatore cappelli e dei biscotti tradizionali che si chiamano i tozzetti. Abbiamo creato due linee cosmetiche, la prima linea si chiama Inspiration, è composta da un olio di cartano cosmetico, una crema viso rivitalizzante e uno scrub molto particolare. Un ingrediente importante è lo scarto della farina del cartano. Abbiamo creato una seconda linea che si chiama Evolution perché è stata un'evoluzione, siamo riusciti a fare un infuso di fiori di cartano con delle proprietà veramente importanti e rigeneranti per quanto riguarda la pelle. Siamo gli unici, facciamo questa cosa qui, siamo stati alzati dal gusto, nessuno ha visto mai e creato in questo poco tempo per quanto riguarda tutta la riga del cartano. Musica Musica